E' allarme, sicurezza stradale. Secondo il presidente di Asso Pedoni, a Roma, in media, sulle strade ci sarebbe un morto ogni due giorni e quasi 100 feriti ogni 24 ore. Una vera e propria strage, insomma, soprattutto se si pensa che il 10% dei pedoni che perdono la vita sulle strade sono a Roma. Noi dovevamo ridurre del 50% i morti entro il 31 dicembre del 2010, non abbiamo raggiunto questo risultato. Nell'ultimo tempo la situazione è migliorata, la crisi ha ridotto le possibilità economiche dei cittadini, la macchina costa. I petrolieri affermano che nel 2010 hanno venduto il 20% in meno di carburanti. 20% in meno di carburanti, riduzione del traffico, riduzione degli incidenti, riduzione dei morti e riduzione dei feriti. Noi come Asso Segnaletica Confindustria abbiamo fatto un'indagine campionaria su base nazionale e risulta che circa un segnale su due non è conforme al codice della strada. Nella fattispecie anche il comune di Roma, la nostra capitale, presenta delle grosse irregolarità. Qui ad esempio le strisce pedonali quasi non si vedono. Lei ha paura a attraversare la strada a volte per il traffico per le automobili? Sì, a volte sì. Cosa ha fatto dei motorini? L'amministrazione comunale sa che deve fare l'emergenza, c'è una situazione di emergenza traffico a Roma dichiarato con decreto presidente del Consiglio dei Ministri, ha creato il commissario straordinario proprio per questo Roma, Milano e Venezia hanno il commissario straordinario e se deve far vedere il commissario straordinario deve prendere dei provvedimenti. Da qui la proposta del consigliere del PD Dario Nanni di introdurre il reato di omicidio stradale.